L'ultima volta abbiamo introdotto la definizione di derivabilità e abbiamo visto che se una funzione è derivabile è sicuramente anche continua, abbiamo visto che se è continua non è per forza derivabile e abbiamo visto anche le regole di derivazione di somma prodotta a questo punto una prima cosa che possiamo cercare di fare, facciamo un po' di esercizi abbiamo poi introdotto la funzione derivata, quello che possiamo cercare di fare è andarci a calcolare le derivate di alcune funzioni note, il primo pacchetto se f di x è una costante è più prima, poniamo il punto x con 0, non è altro che uguale a c-c all'in per x che tende a x con 0, c-c fratto x quindi la derivata di una costante è 0 secondo caso, f di x uguale a x, se non specifico nulla il dominio è tutto r, altrimenti se vogliamo andare a calcolare f di x con 0, f di x meno x con 0, c-c fratto x meno x con 0 1, cosa ci devo mettere? f di x fa x, f di x con 0 fa x con 0, viene x meno x con 0, fratto x x con 0 significa proprio i limiti di 1 terzo caso, f di x uguale a x alla n, stavolta devo fare f primo di x con 0 che è il limite per x che tende a x con 0, di x alla n meno x con 0 fa la n fratto x di 1 questo rapporto però è un rapporto notevole, cioè si può svolgere prima di effettuare il limite e qua mi viene x alla n meno 1 più x alla n meno 1 per x con 0 più x per x con 0 alla n meno 1 più x con 0 alla n meno 1, alla n qua meno 2 e qua meno 1, ok? come si fa a capire? provate a moltiplicare questa espressione per x meno x con 0 allora quando moltiplichi per x viene x alla n, poi quando moltiplichi per x questo viene x alla n meno 1 x con 0 ma c'è anche meno x con 0 per x alla n meno 1 di qua, quindi questi due se ne vanno andate avanti, vedete che mano a mano tutti i prodotti intermedi si evitano due a due rimangono solo il prodotto di x per x alla n meno 1 fa x alla n e meno x con 0 per x con 0 alla n meno 1 che fa meno x con 0 alla n ora, quando x tende x con 0 alla n meno 1, per quale motivo? perchè abbiamo già dimostrato che la funzione x alla n è una funzione con 0 e questo? pure e qua motivo, questo è fisso che vale x con 0, questo altro tende a x con 0 alla n meno 1 dopo il prodotto fa x con 0 alla n meno 1 e così via, tendono tutti a x con 0 alla n meno 1 allora basta contare quanti sono questi attendi allora quanti sono questi attendi, basta vedere il grado di x, n meno 1, n meno 2 1, 0, quindi abbiamo tutti i gradi che vanno da 0 fino a n meno 1 quindi vuol dire che gli attendi sono n quindi questo limite fa n volte per x con 0 alla n meno 1 quindi se io voglio indicare la derivata di una costante quindi Erik allora f di x qua c, f di x qua c, f di x qua 0, f di x qua 0, f di x qua 0, sempre 1 no? Se f di x fa x alla n, f' di x quanto fa l per x alla n meno 1? Perché fa l per x alla n meno 1? Perché questa derivata noi l'avevamo calcolata in x con 0, se adesso la derivata la dobbiamo calcolare nel punto x, adesso c'è la dobbiamo calcolare, ok? Questi due casi qua, in qualche modo, almeno questo è preonastico, nel senso che se noi mettiamo n uguale a 1 ci ritroviamo, diviene 1 per x alla 0, però i primi è meglio scrivere. Stiamo parlando però di monomi. Per le regole di derivazione delle combinazioni lineari, adesso siamo in grado di derivare qualunque polinomio, cioè se io ho questo polinomio f di x uguale 6x1 meno 2x4 più 5x meno 4, la derivata di questo polinomio calcolata nel punto x quanto farà? Allora, 18x4 meno 4x più 5x. Allora, come si fa? La derivata di x cubo fa 3x quadro per 6, cioè davanti 3 per 6 fa 18. Allora, la derivata di x4 fa 2x per meno 2 davanti fa meno 4x, la derivata di 5x fa 5 e la derivata di 4 sparisce. Allora, dicevamo che tramite le regole di derivazione dei monomi che abbiamo appena svolto, possiamo derivare qualunque polinomio. ogni polinomio ha come dominio tutto R e possiamo derivare qualunque. A questo punto potremmo derivare anche le funzioni razionali. Per esempio, se io voglio derivare f di x uguale, che ne so, 1 fratto x meno 1, ovviamente x diverso da 1, come si fa? f primo di x, questo è meno 1 fra x meno 1 al quadrato, perché sarebbe la derivata di 1 che fa 0 per 1, quindi il primo pezzo non c'è, meno la derivata di x meno 1 che fa 1 per 1, meno 1 e so, x meno 1. Se vi ricordate la regole di ragione della forza. In realtà, se f di x è il reciproco di una funzione g di x in generale, ovviamente, f primo di x si fa meno c primo di x fratto g quadro x. È un caso particolare del rapporto, no? Si fa la derivata di 1 che fa 0 per g di x, quindi non c'è, meno c primo di x per 1 fratto g quadro x. può valere la pena di ricordato direttato. Ovviamente, anche la derivata è definita per x diversi parole. Derivando la funzione il dominio non può aumentare, vedremo che ci saranno dei casi in cui, ecco, facciamolo subito un caso, un esercizio. Prendete questa funzione qua. Allora, andiamo a prendere questa, però non abbiamo la derivata della funzione composta, se no lo rimandiamo. Allora, stavamo dicendo che, una volta che noi sappiamo derivare i monomi, sappiamo derivare tutti i monomi, sappiamo derivare tutte le funzioni relazioni, perché basta soltanto applicare le regole di derivazione di somma prodotti nera. ok? Ok, quindi per adesso ci fermiamo qua e andiamo invece a vedere che cosa significa sta derivata da un punto di vista giovane. L'abbiamo già accennato nella lezione scusa, adesso lo vogliamo sviluppare per bene. Allora, vi ricordo che f' di x con 0 è il limite per x che tende a x con 0, di f di x meno f di x con 0, tratto x meno x con 0. quindi questo equivale a dire che f' di x con 0 è uguale a f di x meno f di x con 0, fratto x meno x con 0, più qualcosa che tende a 0, qualcosa che tende a 0 si chiama o piccolo di 1, abbiamo già accennato, cioè una cosa che diviso per 1 tende a 0. naturalmente x meno x con 0. Questa uguaglianza, se io vado a moltiplicare per x meno x con 0, equivale a dire che f' di x con 0 per x meno x con 0 è uguale a f di x meno f di x con 0, quando moltiplico per x meno x con 0 o piccolo di 1 diventa o piccolo x con x con 0. Cioè diventa qualcosa che diviso per x meno x con 0 diventa il senso. perché se io divido per x meno x con 0 torno a quello di prima che tende a 0. Adesso il tutto equivale a dire che f di x è uguale a f di x con 0 più f' x con 0 per x meno x con 0, più o piccolo di x meno x. ho portato questi due dall'altra parte. Attenzione, qualcuno potrebbe dire questo l'hai portato dall'altra parte, si vede, è cambiato segno. quest'altro l'hai portato da quest'altra parte e non l'hai cambiato segno. Perché? Perché meno piccolo di x meno x con 0, se vi ricordate, è uguale a f di x con 0. Ricordate, quando noi manipoliamo gli infinitesimi, quindi, comunque, indichiamo con uno piccolo di x con 0, non un determinato infinitesimo che è diviso per x con 0 diventa 0, ma indichiamo un generico infinitesimo. Allora, cambiare il disegno non cambia il suo status di infinitesimo che è diviso per x con 0. Quindi, non cambia niente. dire che la derivata del punto di x con 0 della f è f primo di x con 0, o dire questa è esattamente la stessa forza. che l'ho spettata. Allora... Ciò è? Ceo? voglio sottolineare questo che se ho questa uguaglianza allora n è uguale a 3d e in particolare esiste cioè allora se vi ricordate quando io avevo una funzione continua quando avevo una funzione continua avevo questa uguaglianza qua io sapevo che f di x meno f di x con 0 tendeva a 0 cioè potevo dire che quando x tende a x con 0 f di x era uguale al valore nel punto più qualcosa che tendeva a 0 che abbiamo genericamente sempre chiamato questa è l'informazione che si trova in una funzione continua adesso andiamo a vedere che succede se f è derivato se f è derivato abbiamo detto vale questo più precisamente io se voglio specificare questa uguaglianza un po' meglio cioè voglio scrivere f di x con 0 poi ho piccolo di 1 come lo voglio scrivere? come un pezzetto che vale m per x meno 0 vedete questo tende a 0 per x meno f di x con 0 questo pure ok? però quindi la somma di questi è o piccolo di 1 però di questo piccolo di 1 noi non sappiamo nulla su quello che poi chiameremo l'ordine dell'infinitesimo qui invece sappiamo che questo è un infinitesimo di ordine 1 cioè esattamente si comporta come x meno f di x con 0 alla 1 più un altro pezzo che chiameremo infinitesimo di ordine superiore a 1 perché è diviso per x meno di scontri e non di scontri quindi prima noi avevamo un'informazione che f di x era uguale a una costante più un infinitesimo per x che tendeva a scontri la costante era il valore della funzione di x adesso supponiamo di avere l'informazione che questa uguaglianza si scrive un po' meglio cioè abbiamo la costante poi abbiamo un pezzetto di ordine 1 poi abbiamo un pezzetto di ordine superiore a 1 allora cosa deve succedere? per quello che abbiamo visto da sopra deve succedere che per forza m deve essere uguale al pezzetto di sponzeria e in particolare deve esistere il pezzetto chiaro? ok ora che cosa significa questa uguaglianza da un punto di vista geometrico? significa significa chi è? allora facciamo il grafico di una funzione f qui abbiamo il punto x con 0 se io vado a fare vado a studiare una retta di equazione una retta di equazione f di x con 0 più m volte x meno x con 0 chi sono queste rette al variare di m? beh una cosa è certa che quando metto x uguale a x con 0 questo pezzo viene 0 quindi la x è f di x con 0 quindi tutte queste rette passano tutte queste rette passano per il punto di coordinate x con 0 e f di x con 0 cioè passano per questo punto del grafico della funzione tra tutte queste rette ce ne sta una sola quella in cui m è uguale a f primo di x con 0 che è speciale perché è speciale? perché quando mi avvicino a x con 0 quello che avanza se qua non prendo m uguale a f primo di x con 0 ci sarà una differenza da compensare che sarà m meno f primo di x con 0 per x meno di x con 0 cioè io posso scrivere lo scrivo meglio qua su allora guardate bene io posso scrivere così y f di x uguali a f di x con 0 più m per x meno di x con 0 più f primo di x con 0 meno m per x meno di x con 0 più o piccolo di x meno di x con 0 perché? allora se ci fate caso prendete la inguaglianza incorniciata se fate la somma di questi due pezzi mx meno di x con 0 e meno mx meno di x con 0 se ne va e torna esattamente la superiore a f di x con 0 ok? allora vedete che se io voglio scrivere così e quello che avanza non è o piccolo di x con 0 perché questo è di ordine superiore a 1 ma questo diviso per x meno di x con 0 tende a f di x con 0 meno m che non è in generale in generale uguale a 0 a meno che m non sia f di x con 0 è un altro modo di ripetere questa implicazione ok? quindi che significa? significa che tra tutte queste rette ce n'è solo una che ha questa proprietà faccio prima di disegnare qual è la proprietà? ingrandiamo qua allora la proprietà è che quando mi avvicino a x con 0 il rapporto tra la il delta y quindi diciamo l'incremento della funzione cioè f di x meno questo pezzo qui il rapporto tra no scusate diciamo il rapporto tra la differenza tra il valore della funzione e il valore della diciamo della y sulla retta tangente ho detto madre e invece l'incremento della x questo rapporto tende a 0 ok? quindi lo status speciale di questa retta fa sì che possiamo dare a questa retta un nome particolare questa retta noi la chiamiamo per definizione retta tangente quindi per definizione quindi non ci sta una cosa da dimostrare si allora definizione si dice retta tangente a grafico di E nel punto x con 0 vediamo la retta di equazione y uguale f di x con 0 più f' di x con 0 per x con 0 ok? possiamo chiamarlo y uguale r di x uguale retta nel punto x a proposizione r di x è la retta tangente al grafico di E nel punto x con 0 se è solo 6 il limite per x che tende a sconze r di x o f di x meno r di x fratto x meno x con 0 in un senso questo è banale in un senso se io ci metto r di x con queste equazioni qui si prendo la retta da g vado a fare la differenza di una f di x meno f di x con 0 meno f di x con 0 per x con 0 sappiamo che quello è un piccolissimo senso una premessa a tutto è sia f derivabile nel punto se la f non è derivabile di x con 0 direttamente non si può fare viceversa se voglio una retta che faccia questo se voglio che questo limite debba tendere a 0 allora la retta in x con 0 deve valere a f di x con 0 altrimenti che succede? che quando x tende a x con 0 questo tende a f di x con 0 questo non tende a f di x con 0 e il limite non tende a 0 perché è una costante su 0 a più o meno e più quindi per prima cosa qua ci deve stare f di x con 0 poi le rette che passano per f di x con 0 abbiamo detto sono queste qua le rette che passano per x con 0 e f di x con 0 sono queste ci vado a mettere l'ho fatto già prima il conto ci vado a mettere f di x con 0 più m per x di x con 0 vado a fare una differenza ci vedo che questa differenza tende a 0 se solo si m uguale a f di x chiaro? quindi la retta tangente si definisce quando la funzione è derivabile a x con 0 tra tutte le rette del piano è l'unica che passa per il punto del grafico e quando vado a fare questa differenza e la vado a dividere per x con 0 mi dà 0 quindi è caratterizzata da questo da questo parco perciò si chiama la retta tangente perché non ce ne sta neanche voi la retta tangente è specificata alla costante che la costante deve essere f di x con 0 anzi f di x con 0 o meno x con 0 per f di x con 0 è specificato il coefficiente acolare che deve essere f di x con 0 quindi qual è il significato geometrico della derivata f' di x con 0 è il coefficiente angolare dell'aretto da noi al grafico di f nel punto con 0 è si scrive così mx mf non è altro che il coefficiente angolare dell'aretto di x bene e così conosciamo adesso ho anche il significato allora lo ripeto per l'ennesima o dire che una funzione è continua significa io ho il valore della funzione nel punto più qualcosa che tende a 0 quando mi avvicinavo invece è un teorema è una funzione derivabile c'ha una struttura se la funzione derivabile x con 0 stavolta non è così e basta è meglio cioè la funzione è uguale al valore della funzione più la derivata per lo spostamento dal punto che vedremo chiameremo infinitesimo di ordine 1 quindi questa è una costante che non è un infinitesimo è di ordine 0 questo è un pezzo che è infinitesimo che tende a x con 0 ma diviso per x con 0 normalmente non tende a 0 a meno che la derivata non sia nulla e poi quello che rimane è un infinitesimo però di ordine superiore a 1 chiaro? quindi è come se fosse un teorema di studio una funzione continua è uguale a valore della funzione del punto più una perturbazione che tende a 0 per x che tende a 0 una funzione derivabile no è meglio x il valore della funzione del punto più un incremento che chiameremo lineare di ordine 1 più un'ulteriore perturbazione che però è di ordine superiore va bene? ok quindi questa è la situazione a questo punto possiamo riprendere il nostro diciamo specchietto di capo delle derivate per adesso noi sappiamo soltanto che queste funzioni derivabili hanno una struttura migliore delle funzioni continue e basta per capirci meglio vi capiterà ogni tanto di vedere delle funzioni che indicano gli indici di forza no? oppure funzioni che indicano gli indici di forza normalmente hanno un grafico qualcosa del genere in realtà però voi vedete che sono abbastanza frastagliate e se io vado a ingrandire una zona qui di questo grafico vedo che la frastagliatura si ripropone anche a qualunque tipo di scato in molti casi si può vedere effettivamente che queste funzioni sono continue ma non sono derivabili da nessuna parte tipicamente una funzione del genere è continua ma non è derivabile da nessuna parte cioè non ha un grafico liscio come prima fatto che abbia questo grafico corrugato e che questa allora una cosa è che se il grafico è corrugato però andando a ingrandire il grafico si diventa più liscio allora in quel caso la funzione è derivabile solo che siccome le variazioni diciamo le derivate erano molto grandi non si capiva che la derivata fosse derivabile che la funzione fosse derivabile su una certa scala ma se invece il grafico rimane corrugato a qualunque tipo di scala può capitare che effettivamente una funzione sia continua senza essere derivabile da nessuno questo è quello che tipicamente avviene poi possiamo avere noi abbiamo già visto un esempio di una funzione non derivata abbiamo visto l'esempio della funzione valore assoluto questo è il grafico che aveva un solo problema in un solo punto in tutti gli altri punti è derivabile ci sono però funzioni che non sono derivabili di nessuno nonostante questo sono ci sono se ne possono dare degli esempi sia nella teoria che nella pratica ok quindi quello che bisogna capire è che una funzione derivabile ha intrinsecamente per sua struttura dei vari di tutti i punti per esempio ha per la sua struttura un grafico più buono in ogni punto possiede l'ettrangente questo è il grafico questo è il fatto se lo vogliamo dire con precisione ok torniamo a a vedere se le nostre funzioni sono derivabili o meno andiamo a vedere le funzioni seno e coseno quelle abbiamo già viste se io prendo la funzione seno abbiamo detto f primo di x con 0 che è è il limite per x che tende a x con 0 del seno di x meno seno di x con 0 fratto x che però per le formule di prostoferesi è uguale al limite per x che tende a x con 0 di 2 coseno di x più x con 0 per seno di x meno x con 0 a mezzo fratto di x meno x con 0 ma abbiamo visto che questo questo per questo tende a 1 questo altro tende a coseno di x con 0 quindi la derivata del seno nel punto di x con 0 è coseno di x con 0 quindi se io adesso vado a scrivere f di x uguale a sen x chi sarà f primo di x? così di x andiamo a fare la derivata di allora da una parte se ricordiamo il grafico della funzione eseguo da una parte non ci aspettiamo che la funzione sia derivabile e poi il grafico del seno è più liscio di così in qualche modo ci aspettavamo che fosse derivabile e infatti andiamo a vedere per la funzione coseno allora f di x uguale coseno di x adesso se devo fare la derivata nel punto x con 0 cosa devo fare? devo fare il limite di x che tende a x con 0 di coseno di x meno coseno di x con 0 fratto x meno x con 0 che è uguale al limite per x che tende a x con 0 di meno 1 seno di x più con 0 mezzi per seno di x meno con 0 mezzi fratto x meno di allora questo fratto questo per questo tende a 1 come prima poi cosa rimane? rimane meno poi rimane seno di x più x con 0 mezzi che tende a 6 quindi se f di x è uguale a coseno di x f' di x sarà a meno coseno di x quindi quindi fino ad ora abbiamo imparato a derivare i monomi se sappiamo derivare i monomi sappiamo derivare i polinomi e le funzioni relazionali poi sappiamo derivare seno e coseno ma se sappiamo derivare seno e coseno sappiamo derivare i cosiddetti polinomi anticronomenici cioè tutte le somme di potenze di seno e coseno tutte le combinazioni lineare di potenze di seno e coseno e poi possiamo derivare anche tutte le funzioni relazionali cioè per esempio andiamo a prendere la tangente che è la tangente sen x cosen x come si fa a derivare se vi ricordate si fa coseno quadro di x sotto poi si fa la derivata di seno che vale coseno per il denominatore non derivato quindi viene coseno quadro di x meno la derivata di coseno che vale meno seno per seno non derivato quindi meno per meno fa più quindi fa viene 1 coseno quadro di x quindi se la mia f di x è la tangente di x la sua derivata farà 1 fratto coseno e abbiamo ampliato un pochettino il nostro specchietto di derivata adesso vediamo un attimo prima della pausa vediamo un attimo come si può interpretare meglio la derivata se vi ricordate la derivata in un punto è il coefficiente della retta angolare della tangente della retta tangente coefficiente angolare della retta tangente ma io quando parlo di coefficiente angolare della retta tangente chi è? allora facciamo una figura fatta meglio qua abbiamo la funzione y uguale a f di x poi abbiamo la tangente nel punto x con 0 f di x con 0 cioè y uguale a f di x con 0 qui f primo di x con 0 e x con 0 questa è la retta della retta è la funzione se ci metto la correzione ho vincolo x con 0 se invece non ce la metto è la retta della retta di x ora chi è f primo di x con 0? f primo di x con 0 non è altro che la tangente di quest'angolo alfa il coefficiente angolare di una retta è dato dalla tangente dell'angolo con la retta stessa o con la retta stessa o con la retta stessa che rappresenta cos'è la tangente voi incrementate di 1 se questo è 1 questa quantità qui questo deve essere m cioè in questo caso il più primo di sconfondenza se questo si sposta verso destra di 1 questo sarà di m e la tangente è più a prima più a 4 non è più a 4 non è più a 5 la retta stessa ok ma ora cosa ci dice questa tangente in particolare questa cosa ci dice la derivata in particolare il coefficiente angolare di questa retta stessa ci dice se la funzione sta salendo o se la funzione sta scendendo cioè se questa coefficiente angolare è positivo allora guardate torniamo a questa uguaglianza qua f di x meno f di x con 0 questo è uguale a f primo per x meno x con 0 per x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0 fatevi cancellare questo pezzo che non c'è finita allora adesso dividiamo per x meno x con 0 devo dividere per x meno x sia qua questo sparisce sia qua e qua mi viene un piccolo di x meno x meno 0 fratto x meno x adesso supponete di stare abbastanza vicino a x con 0 questa quantità a cosa tende per x che tende a x con 0 questa per x che tende a x con 0 tende a 0 per definizione perché questo è un piccolo di questo allora supponete che per esempio questo sia 3 se questo è 3 e questo è abbastanza piccolo questa differenza questa somma sarà positiva che vuol dire che il rapporto tra l'incremento della funzione e l'incremento della variabile indipendente è positivo che vuol dire che se io mi sposto in quali intorno di x con 0 se io mi sposto verso destra la funzione aumenta se mi sposto verso sinistra la funzione diminuisce come si chiama la funzione del genere? funziona strettamente crescita quindi sarà però locale per un po' vicino a x con 0 poi per esempio questa funzione potrebbe sta salendo poi potrebbe cominciare a scendere questo lo ritorneremo e lo definiremo in maniera decisa però quello che voglio farvi capire è che la mia derivata mi dice in particolare se la funzione sta salendo se la funzione sta scendendo quando se è maggiore di 0 la funzione sta salendo se è minore di 0 la funzione sta scendendo dove? vicino a x con 0 allora vediamo un po' se la cosa torna torniamo alla la funzione seno se io prendo la funzione seno tra meno pi greco e pi greco poi vabbè vado avanti che succede? allora in meno pi greco la funzione seno vale 0 ma la sua derivata vale coseno chi è coseno di meno pi greco coseno di meno pi greco è meno 1 che vuol dire che la funzione sta scendendo poi mano a mano che vanno avanti quando arriva meno pi greco mezzi coseno di meno pi greco mezzi vale 0 che vuol dire nulla poi vedremo come analizzare questa informazione però non mi dice né che stia salendo né che stia scendendo infatti cosa succede in questo punto? che la funzione ha finito di scendere in qualche modo e sta cominciando a salendo se prendete la funzione in 0 la funzione in 0 vale di nuovo 0 ma stavolta la derivata di seno coseno in 0 vale 1 che vuol dire che la funzione non sta più scendendo come in meno pi greco ma invece sta salendo e quindi vedete che fino a che la funzione sale la derivata è positiva poi quando la funzione scende la derivata è negativa e ovviamente dove passa dalla salita alla scena la derivata deve essere per forza nulla perché se fosse positiva o negativa sarebbe condiviso ad essere il punto avrebbe già cominciato a far scendere ok? quindi questo è un altro discorso che ci dice la funzione derivata cioè il valore della derivata in un punto il segno non solo il segno ci dice se la funzione sta salendo o sta scendendo ma anche il valore ci dice quanto sta salendo e quanto sta scendendo perché se la funzione si deve avvicinare al valore della letta tangente a meno di infinitesi in ordine superiore al primo è chiaro che se m è uguale come in questo caso al grosso modo sarà 1 la funzione sale in un certo modo ma se m fosse 5 vuol dire che la funzione starebbe salendo in modo più veloce ricordatevi sempre questo se qua invece di 1 c'è 5 a ogni incremento della variabile indipendente l'incremento della funzione è 5 volte più grande a meno di perturbazione di ordine superiore superiore ok? quindi questa è un'altra informazione che ci dà la derivata va bene pausa grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.